Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori, benvenuti a questo consueto appuntamento con l'informazione di prima mattina con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Allora ben ritrovati, siamo nel cuore di questa settimana santa, si apre il triduo pasquale e dunque sono tanti gli appuntamenti come vedremo tra poco anche in diretta e che Fano TV vi trasmetterà dirette con il Papa, Papa Francesco. Allora andiamo subito con ordine a vedere il santo di oggi. La chiesa ricorda la cena del Signore, oggi è il giovedì santo, dunque come dicevamo, allora facciamola adesso, dai facciamola adesso poi lo ricordiamo in chiusura. Allora questa mattina alle 9.30 in diretta la santa messa del Crisma con il Papa e poi nel pomeriggio c'è anche la messa in cena domini però il Papa così come ha preso l'abitudine negli anni scorsi non vuole la diretta e dunque non ci saranno le immagini, avremo soltanto le immagini nei TG che vedremo stasera alle 19.40. Il sole sorta alle 6.27 e tramonterà alle 19.50. Allora il tempo, il tempo per la giornata di Pasqua, vediamolo subito. Ieri in realtà era un po' diverso rispetto ad oggi, questo è trebimeteo.it, vedete ieri era tutta pioggia, invece oggi, vedete la domenica 16, il tempo è, diciamo, leggermente migliore rispetto a quello, anzi direi decisamente migliore se andiamo a vedere il pomeriggio per esempio della giornata di Pasqua e questa è la sera, la notte, vedete, quindi è cambiato. Allora attendiamoci ancora, aspettiamo ancora qualche giorno, domani probabilmente le previsioni saranno ancora più affidabili. Comunque per la giornata di oggi, eccola qua la cartina della Regione Marche, dove la giornata di oggi il cielo sarà sereno così come per la giornata di domani, ok? Quindi per oggi avremo un campo di alta pressione che favorirà tempo stabile in provenienza soleggiato anche se con qualche annuvolamento che si attiverà nel pomeriggio sulle zone appenniniche. Questa è la situazione di oggi, allora adesso andiamo sui giornali, cominciamo dal resto del Carlino che pubblica questo appuntamento che è stato presentato ieri mattina nella sala della Concordia del Comune di Fano, un appuntamento che porterà qui in città 700 ex militari del CAR, il centro addestramento reclute. Perché? Perché c'è questa idea definita da molti geniale, un'operazione nostalgia che richiamerà a Fano tutti quelli che hanno fatto il CAR negli anni passati, quando la caserma Paolini era aperta. La caserma Paolini ha ospitato dal 1905 fino al 2000, anno in cui poi è stata chiusa, tantissime persone. Qui a Fano si sono addestrati tra quelle mura anche personaggi famosi del mondo della cultura come Giorgio Streller, il padre della RAI, Ettore Bernabei, così come i personaggi della politica dal segretario del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante a quello del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, oppure cantanti come Pupo, Irigheira, insomma tanti anche gli sportivi. In primis per esempio i calciatori del Fano Calcio. Ieri il colonnello Santinelli ci raccontava che proprio c'era un accordo, insomma quelli che giocavano nella squadra del Fano solitamente facevano il CAR in città proprio per continuare anche ad allenarsi, a rimanere vicini alla squadra. Tra questi c'è anche il racconto di spalla qui sulla pagina di Fano di Carlino di Fabio Cazzola che dice io militare e calciatore. Ok, quando si terrà questo appuntamento adesso è tutto da stabilire. Comunque si attendono tutte queste persone. Tra l'altro un'idea che voleva portarci via ha tentato di scipparci anche Pesero perché nel 2016, come giustamente ricorda Anna Marchetti, il sindaco di Pesero lanciò un'idea analoga ma già quello di Fano la stava proponendo. Un patto più forte invece contro il terremoto. Si rinnova la collaborazione tra Passaggi Festival, il Festival della Saggistica, e l'Università di Camerino. Giovedì 22, da giovedì 22 a domenica 25 giugno, in piazza 20 settembre c'è il Festival e nei giorni del Festival si farà anche una raccolta fondi per regalare bici elettriche ai ragazzi dell'Università di Camerino. Per quanto riguarda invece la fiera di San Bartolomeo, la fiera non si sposta. C'era l'idea di portarla in centro storico, rimane tutto così com'è. Però la novità è che si riduce il numero dei giorni, praticamente non sarà più di tre giorni ma di due. Quindi a due giorni hanno eliminato un giorno che probabilmente era in più. A Fermignano invece gli animalisti si schierano contro il palio della rana. Usate le palline, dicono loro, non le rane. È stata avviata anche una petizione su un sito internet, change.org. Il presidente della Proloco però risponde, sbotta e dice l'ultima rana che è morta al palio è nel 2008, è successo nel 2008, è solo per colpa vostra. Quindi questa è la risposta della Proloco. Inferno in famiglia, un nutrizionista e medico sportivo accusato di maltrattare la moglie, violenze fisiche e psichiche, litigi. Lui dice non volevo farle del male. È invece accusato di violenze fisiche e psichiche nei confronti della moglie. È una razione quasi quotidiana di insulti, schiafi, spintoni, spesso sotto gli occhi dei tre figli. Ma contro di lui c'è anche l'accusa di una ricca serie di persecuzioni via sms, whatsapp, persino tramite facebook, su cui in un falso profilo creato ad hoc è accusato di aver caricato foto della coniuge, nuda, senza veli. Ubriaca, spacca tutto al circolo, una cinquantenne al Morselli durante la partita, arriva il 113, cercando di ripartire in auto, è stata bloccata, la patente l'è stata ritirata e l'auto confiscata. Sempre dal resto del Carlino, no, ci fermiamo qua. Sì, la prima pagina, eccola qua, la prima pagina del quotidiano, la foto è per la siccità, purtroppo, che comincia a farsi sentire. Non piove, in effetti, piove poco, quindi campi riarsi, fiumi a secco, la siccità sta già facendo danni, si spera, nella pioggia. Mentre nelle pagine interne troverete anche la notizia di pedofili scatenati in rete, la squadra mobili di Pesaro scopre un camionista che adescava ragazzine pesaresi, tutte più o meno, questa ragazzina in particolare di 12 anni, è riuscita ad ottenere da lei foto senza veli, poi la mamma ha raccolto lo sfogo della figlia, che poi dopo immediatamente si è recata alla polizia, è stato individuato e adesso è stato denunciato. Poi la notizia della morte di Gianfranco Sabatini, vedete di spalla, presidente per vocazione, se ne è andato il presidente della fondazione, un impegno tra politica e sociale. Poi la rievocazione del venerdì santo con la turba, la turba di Cantiano, quando la passione è emozione. E poi al pronto soccorso di Pesaro, che in attesa della polizia arriva il vigilantes. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, capitale dei giovani, Fano capitale dei giovani del 2018, a questo punto Fano sfida Pesaro, l'amministrazione si candida per il bando Anci. originale è la nostra esperienza. Mattia De Benedittis, che è responsabile delle politiche giovanili del Comune, dice questa è un'ottima occasione di visibilità italiana ed europea. Questo è un time la novità, la proposta dei 5 Stelle a Fano, cioè quello di dare un po' di spazio all'inizio di ogni Consiglio Comunale ai cittadini. Quindi sapete che non si può intervenire durante un Consiglio Comunale, i cittadini possono solo ascoltare, possono partecipare certamente, però i 5 Stelle dicono, beh, insomma, mezz'ora prima dell'inizio del Consiglio Comunale, perché non riserviamo questo tempo alle domande dei fanesi? Ecco qui, dunque, il question time, un po' quello che succede alla Camera dei Deputati. La proposta prevede di riservare questo spazio in apertura, appunto, di ogni Consiglio. È solo da 18 anni, ma è efficiente questo giudice, che si chiama Periclee Tagliarol, è un avvocato di Rimini, ma è a Fano, c'è 6 o 7 volte al mese, è un magistrato onorario, opera ancora nella nostra città, ha smistato, ha risolto 600 cause civili, 200 penali all'anno, insomma, è un giudice, l'unico giudice di pace, perché dopo un breve periodo in cui è stato affiancato da un collega, è rimasto solo, ormai da 18 anni a questa parte, a sbrigare l'enorme lavoro che fa riferimento al suo ufficio situato al pian terreno di Palazzo De Cuppis. Dalla Valle del Cesano, un bosco per la città, le richieste, la richiesta al Comune, l'ha fatta il Comitato per la Salute e un punto macrobiotico che hanno incontrato l'assessore Catalani. E poi, da Senigallia, l'incappucciato, di cui abbiamo parlato nel servizio di ieri, in apertura nel telegiornale, l'incappucciato condannato sui social, per lui insulti e minacce per la sfida in strada. Lo sapete, no? Questa moda di attraversare la strada con un cappuccio di carta sulla testa. C'è anche un video che vi abbiamo mostrato dal Corriere Adriatico. Cattiva pubblicità per Senigallia, il giovane che attraversava imbustato nel mirino della rete. Aumentano i casi di disagio giovanile. Sardella del PD chiede al Comune di intervenire. Questa è la pagina di Senigallia. Da Urbino invece, anzi da Cagli, le quote rosa alla processione. Due donne tra gli incappucciati. Storica apertura nel rito che va avanti da 500 anni e attira fedeli e turisti. Il responsabile Aguzzi dice ritorno al passato, una volta c'erano anche le consorelle. Dunque quote rosa anche nella processione del Venerdì Santo a Cagli. E sempre a proposito di riti pasquali, il Vescovo esalta la Pasqua. Qui c'è una pagina intera dove lo spazio è per tutti e tre i Vescovi. Coccia, Trasarti e Tani. Il Vescovo, dicevo, quello di Pesaro Coccia, l'arcivescovo esalta la Pasqua. Sarà la speranza, dice lui, a salvarci. Coccia guida alla Settimana Santa. Domani sera c'è anche la Via Crucis. Oggi pomeriggio appuntamento con la cerimonia della lavanda dei piedi nel Duomo di Pesaro. Poi sotto la giornata della gioventù per le celebrazioni, i riti a San Domenico, siamo Urbino, Passione del Signore, c'è attesa a Ferminiano. E poi Trasarti dai detenuti e processione a Pergola, al carcere di Fossombrone, anche la messa domenicale. Ospedale Fortino, dicevamo, guardia armata durante la notte, la direzione sanitaria vuole la tranquillità del personale in servizio. più passaggi dei vigilanti in attesa di un sorvegliante fisso. Il tavolo doc convocato dai vertici sanitari ha portato alla decisione che sarà ratificata nel giro di qualche settimana. Ha letto con i ladri, lei dorme e loro razziano casa, periferia sotto assedio a Pesaro, risveglio da incubo per una trentenne di arzilla. Il cane potrebbe essere stato narcotizzato perché non ha detto, non ha stato buono, buono, zitto, zitto e quindi probabile che sia stato narcotizzato. Mi pare che ci siamo con la segna di questa mattina, ci fermiamo qui. Allora vi ricordo ancora una volta che per chi ci segue in diretta alle 9.30 tra un paio d'ore ci sarà la messa, la Santa Messa del Crisma in diretta con la Basilica Vaticana presieduta dal Santo Padre Francesco. Poi domani, domani venerdì, alle 5 del pomeriggio abbiamo la celebrazione della Passione, poi domani sera alle 21.15 in diretta mondiale, anche noi avremo il segnale del Centro Televisivo Vaticano come facciamo ormai da 11 anni, trasmetteremo anche noi la Via Crucis dal Colosseo. E poi c'è la grande veglia pasquale sabato sera a partire dalle 20.30. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.